Buongiorno a tutti, mi chiamo Elena Rosini, sono assistant professor di biochimica e lavoro presso il laboratorio dei Protein Factory 2.0 al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita all'Università degli Studi dell'Insubria. Quest'anno il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a tre ricercatori, due statunitensi e un britannico. In particolare metà del premio è stato assegnato a Francis Arnold per aver saputo sfruttare i principi chiave dell'evoluzione naturale nella progettazione di nuovi enzimi che possono risolvere alcune problematiche chiave dell'umanità. Anch'io nel mio laboratorio mi occupo di ingegneria proteica, di cosa si tratta? Della evoluzione di nuove attività enzimatiche mediante l'introduzione di sostituzioni aminoacidiche mirate o casuali che ci hanno permesso ad esempio di ingegnerizzare piante resistenti agli erbicidi, di produrre nuovi antibiotici, di sviluppare biosensori per la determinazione analitica di specifiche molecole nei fluidi biologici, di evolvere nuovi enzimi per una terapia genica antitumorale e ultimamente sviluppare un toolbox enzimatico per la degradazione della lignina. L'università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi. Grazie a tutti.